Buonasera, il 27 gennaio scorso tutto il mondo ha celebrato il giorno della memoria, un giorno molto importante del 1945 quando le truppe dell'esercito russo entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz per liberare i prigionieri superstiti di uno dei peggiori orrori della storia. Tutto il mondo ha ricordato quella giornata, noi questa sera invece vorremmo fare un viaggio nella memoria, cioè un percorso in tutti quei luoghi dell'olocausto che sono stati, sono diventati tristemente noti per questo brutto fatto dove il tempo sembra essersi fermato e dove ogni ricordo dovrebbe essere rivissuto o comunque dovrebbe riemergere per poter essere superato. Questo viaggio è stato fatto anche in compagnia di 700 ragazzi e studenti della provincia di Torino nel tentativo in questo progetto di insegnare loro che il futuro può rinascere solo conoscendo il passato anche quando come in questo caso il passato è un bruttissimo esempio. Sono anni onestamente che cercavo di organizzare questa spedizione e alla fine abbiamo trovato la soluzione migliore, Quarta Rete insieme all'Associazione Terra del Fuoco e al treno della memoria. È stata un'esperienza molto forte, formativa, anche faticosa dal punto di vista fisico e morale e credo che sia stata un'esperienza davvero fantastica se si può utilizzare questo aggettivo legato ad un viaggio del genere. Credo che questo valga per il gruppo di adulti che era presente ma soprattutto per gli oltre 700 studenti di Torino e provincia che si stanno alternando in queste settimane fino alla metà e passa di febbraio in questo viaggio. Io credo che sia un'esperienza che tutti debbano davvero fare almeno una volta nella vita per vedere realmente quello che tante volte abbiamo letto sui libri anche di scuola e che tante volte abbiamo visto in fotografie, in documentari, in film. Però lì ci sei davvero, sei veramente là. Perché poi come dicevamo il futuro si può costruire solo capendo quali sono stati anche gli errori del passato. Senti ma le reazioni dei ragazzi che sono abbastanza lontani da queste esperienze? Sì, il giorno della memoria si snoda, il viaggio della memoria si snoda su sei giorni. Il viaggio in treno, ripercorrendo ovviamente in condizioni ben diverse il viaggio che tanti hanno fatto fino ad Auschwitz. Gli italiani sono stati relativamente pochi, solo 7500 deportati là perché molti altri andavano altrove come per esempio Felice. Ci sono stati un paio di giorni preparatori anche legati a spettacoli teatrali, alla visita del ghetto di Cracovia e poi c'è stato il sabato, il giorno clou, con una giornata interamente dedicata ai campi di concentramento di Auschwitz e di Birkenau. La mia storia uscita dal Lager è stata quella di trovare il modo di uscire dal Lager. perché io sono una banalità ma è anche vero, va detto, quasi un onore essere qui ma indegnamente perché come si fa a presentare 12 milioni di morte? Era il Lager dentro. Sono stati scritti un mocchio di libri. Sopra un solo libro che è stato scritto nei primi anni, non ricordo neanche più, una professoressa, mi sembra che è Massanna Bravo, non so se è ancora vivo, non lo so. è stato un bellissimo libro perché ha raccolto le testimonianze in dialetto di così come erano e io rileggendole adesso vedo che noi siamo tornati e abbiamo raccontato la superficie di quello che avevamo visto e che avevamo vissuto, ma il contenuto di quella nostra vita, la parte interiore, è maturata dopo e la parte interiore è quello che io ripeto adesso per la terza volta, cercare di uscire dal Lager. È il settimo anno che il treno della memoria attraverso l'associazione Terra del Fuoco viene organizzato in maniera così sistematica e devo dire anche impeccabilmente organizzato. Sono quattro treni quest'anno che partono, due da Torino, uno da Trento e uno da Bari perché coinvolge diverse zone d'Italia e sostanzialmente bisogna dirlo le province e le regioni e gli enti locali che danno finanziamenti perché per gli studenti il costo è veramente basso, fortunatamente sono circa 60 euro che io credo qualunque famiglia sia ben disposta di pagare per mandare il proprio figlio a vedere quello che è successo e che abbiamo letto nei libri di storia. Ogni scuola riceve una sorta di proposta per avere un determinato numero di studenti che partecipano e la scuola fa una selezione, le classi, i più bravi, i più meritevoli, c'è una selezione. C'è una selezione perché verranno anche preparati i ragazzi. Sì, 7-8 per ogni scuola, a volte 10, a volte 12 e i più bravi hanno la possibilità prima di partire tra gennaio e febbraio di avere 4-5 mesi di percorso didattico grazie anche agli esperti di Terra del Fuoco e agli insegnanti in modo da arrivare ben preparati e ben consapevoli di quello che troveranno. Dopo aver eliminato gli ebrei, i lager sono serviti a abbassare i costi di produzione, come ho detto prima, perché viene citato Birkenau e Auschwitz, perché lì c'era la Buma, dove lavorava Primo Levi, che era l'industria chimica. Io, in un sottocampo di Mauthausen, lavoravo alla Meschismet, dove si facevano dei particolari di aereo. Il nazismo bisogna anche vederlo sotto l'aspetto economico, altrimenti si capisce niente. Si perde un grandissimo aspetto. Ecco, il nazista è soltanto quello là con la divisa che ci fa vedere al cinema che va a tormentare un prigioniero. Non è vero! Il soldato nazista era sempre fuori, era dentro l'agra, ed è lì che Hitler, meno male che ha perso la guerra. L'uomo era un nulla rispetto alla vastità di questo campo, cioè noi qua siamo entrati, almeno personalmente l'ho visto enorme, è stato toccante vedere quanto era grande il campo, quante persone c'erano e quanto sono state annullate. Trovo sia particolarmente diverso studiare una cosa dal libro, o comunque leggere e guardare fotografie che vedere dal vivo. Una cosa è leggere dell'informazione, guardare dei filmati storici, un conte e vederli coi propri occhi ti fa un effetto veramente strano. È stata una giornata particolarmente emozionante, ma soprattutto è un'esperienza unica, perché comunque è anche l'atmosfera che comunque è stata creata, con le letture che ci accompagnavano lungo il percorso che abbiamo comunque effettuato con le nostre guide e il nostro gruppo, e rivivere e vedere di nuovo quei volti, dare un volto comunque a quelle che sono le persone che hanno vissuto questa tragica esperienza. I due campi di concentramento sono molto diversi, benché siano distanti pochi chilometri da loro, in questa zona della Polonia, una landa innevata a 70 chilometri da Cracovia. Auschwitz era originariamente una prigione per i soldati russi della Seconda Guerra Mondiale e che poi a un certo punto, dal 1940 a dal giugno, con l'arrivo dei primi deportati civili da un paese della Polonia, venne a tutti gli effetti dichiarato un campo di concentramento. Mi ha colpito perché nei primi tre anni di utilizzo di Auschwitz si teneva una contabilità alla tedesca, quindi con registrazioni, fotografie, date di nascita, date d'ingresso dei prigionieri all'interno del campo di concentramento. E poi man mano che passavano i mesi e gli anni, si avvicinava alla famigerata soluzione finale, è stato fatto questo secondo campo di concentramento enorme di Birkenau, ma è proprio una cosa, non vedi l'orizzonte alla fine, dove non si registrava nemmeno più i deportati, venivano abbandonati lì in baracche animalesche e sullo sfondo si vedono in tante fotografie le due ciminiere delle camere a gas. La prima volta che mi sono posto il problema, perché sono nato? Eravamo in Toscana, nella piana di Poggi Bonsi, ero nel genio militare, stavamo riparando un binario. Abbiate pazienza, io le cose se non le... Se non le contestualizza, certo, sì, sì, sì. Non si può mettere in una scatola, bisogna dire il prima e il dopo. Già i tempi televisivi sono tremendi, certo. E stavamo, eravamo lì per riparare un binario, perché c'erano i treni che dovevano andare al fronte per portare le vettovaglie al fronte, e anche se al fronte non si sparava, ma nelle retrovie gli aerei venivano a mitragliare e bombardare tutti i giorni, perché la parte logistica fosse scombusolata. La guerra è fatta anche di queste cose. Ci sono mitragliati, bombardati. Io dietro quel muretto per la prima volta mi sono detto ma io sono nato per questo? Certo, lo capisco, perfettamente. Quante volte mi sono nato? Finita la Buriana, Mario era lì per terra, col petto squarciato da una scheggia. Il suo libro non si arriva più. La sua fidanzata non c'era più. Un viaggio nella memoria dopo le celebrazioni, naturalmente del 27 gennaio, le celebrazioni del giorno della memoria. Ma abbiamo voluto puntualizzare alcuni aspetti. Innanzitutto che cosa si intende per persecuzione stante lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale? Per persecuzione si intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale. Possiamo avere persecuzioni contro un gruppo o contro una collettività dotata di una propria identità ispirata da regioni di ordine pubblico, raziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale o da altre ragioni. Antropos, di cui vi ricordo il nostro sito che è appunto www.quartarete.tv all'interno del quale troverete appunto in home page la nostra trasmissione e la mail a cui tutti voi potrete scrivere che è antroposchiocciolaquartarete.tv proprio per cercare di continuare questo dialogo proficuo con i nostri telespettatori. Vediamo adesso qualche momento di immagine dell'importantissimo film italiano che ha vinto anche premi Oscar importanti La vita è bella di Roberto Benigno. Buongiorno principessa Prego principessa Avevo aperto il carro ormai Nella settimana dall'8 al 16 aprile del 33 vennero distribuiti in tutta la Germania più di 2 milioni di opuscoli di propaganda e come risposta durante la stessa settimana il movimento di Bibel-Rosherf venne proibito per decreto in molti lander i testimoni di Geova il 10 aprile nel Mecklenburg-Schwering il 13 in Baviera Gli omosessuali erano un altro gruppo presi di mira durante l'olocausto ad ogni modo il partito nazista non fece mai nessun tentativo di sterminare tutti gli omosessuali in base alle prime leggi naziste essere omosessuali in sé non era un motivo sufficiente per l'arresto occorreva avere compiuto qualche atto omosessuale punibile in base al paragrafo 175 ma dopo la fine delle SA e il trionfo delle SS la persecuzione si aggravò anche se rimase sempre limitata ai gay tedeschi ariani dunque abbiamo voluto ricordare attraverso questo viaggio importante di Cristiano Tassinari con questi 700 studenti delle scuole superiori della provincia di Torino alcuni dei momenti più drammatici della seconda guerra mondiale fino appunto a questo famoso 27 gennaio 1945 in cui l'armata russa entrò ad Auschwitz liberando quelli che rimanevano che erano riusciti a sopravvivere all'olocausto a questo tentativo di distruzione di massa